Parente del pezzo Buone 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 E questo del pezzo Al prossimo Mucciaccia Sì URL ha avuto uno che faceva ma no centrale si è indietro così l'ha annullato facciamo queste giocate qua giocano subito poi sulla corsa c'ha picca faccio così o non passiamo oh 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 andee andee è distante vai in sera vai in sera vai in sera vai in sera non ha letto che ce l'ha non sapevo che ce l'ha bravo il tiro dove siamo noi dove cazzo siamo tre volte ho venuto qui due portiere e due vai vai se lo dicevano a mio fratello cioè a mio padre allora cosa vuoi fare a quella cosa vuoi mettere la mano addosso a quella ah certo dai dai no 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 ma leone che è successo ha fatto gol questo è sicuro per il resto non lo so bella bella peccato questa bella si uuuu ma va un po' tiene qua mezzo mezzo arbitro oh oh cosa c'è successo figa dietro no ma chi è la ma è un luogo finita finita c'è un buco cromoso c'è un buco cromoso ragazzi è giusto così cazzo ma tanto c'è un po' di luogia